Agility Dog è una disciplina che stiamo cercando di fare e invocare le persone per creare questo feeling tra proprietario e cane e un divertimento, solo un divertimento l'agility. Abbiamo aperto un'associazione che si chiama Boasi Dog Training, Boasi il mio cognome, dog, cane, trainer e addestramento, è un'associazione a livello sportivo, l'associazione si chiama AICS, siamo un gruppo di tesserati dove ogni tanto è bello riunirci, mangerci la pizza, riunirci, parlare e sono cose importantissime queste cose qua per unire il gruppo e il gruppo poi ci dà anche la soddisfazione di fare queste belle iniziative, perché sì, io posso anche farle però se non ci sono loro io non le potrei fare. Abituare i bambini è fargli capire che non è un giocattolo il cane, interagire il cane con i bambini è importante, anche per far vedere il cane può fare tante cose, non quello che abbiamo visto, l'agility, ad esempio abbiamo fatto un sacco di iniziative per i bambini autistici, per il girasole, per un bambino di aconia, abbiamo raccolto soldi, i cani hanno dato molta soddisfazione, perché dobbiamo far aprire la mente alle persone, perché con i cani ancora siamo un po' arretrati, abbiamo cercato di fare per avvicinare i bambini ai cani e far interagire, infatti non sappiamo veramente la data ancora, però si farà a Caronte con l'oratorio, in collaborazione con l'oratorio di Caronte, di far lavorare anche i bambini con i cani, ad esempio un terra seduto, è importante questa cosa che faremo per i bambini. Certamente il cane, guarda che io stamattina parlavo proprio con una signora che il cane avvicina molto alle persone, si crea un rapporto che uno pensa, ma il mio cane potrà fare questo, potrà fare quello, il cane volendo può fare tutto, si può avere un rapporto bellissimo col cane, soltanto che bisogna un attimino fargli capire alle persone che non è un giocattolo il cane, il cane è una cosa veramente, è un'anima, per me è un'anima vivente, deve essere trattato come come una persona, non dico come una persona, però è un'anima vivente, è giusto che venga trattato come ciò. Su Facebook Massimo Boasi, il numero di telefono è 3807127316 e noi ci puoi trovare il lunedì, mercoledì e il venerdì alle 17 alle piscine della Marinella e la domenica alle 16 sempre alle piscine della Marinella. Grazie per la visione!